Altro grande finale con Leonardo Pensate che la partita seguente a quella dove siamo arrivati in fondo Beh, siamo rimasti in 6 Stavolta siamo messi molto bene Ma forse quando si è messi bene che poi succedono i patatrack Beh, speriamo che non sia così Possibili altre tre coppie Oltre a noi Il numero è quindi ancora pari Quindi vediamo Ah, esatto Intanto ecco, sentiamo che si killano Sono abbastanza No, no, no Stai Stai fermo Lasciali killare Tra di loro Stai nascosto No, no Sono di qua Sono Secondo me Quindi un'altra coppia eliminata Rimangono tre coppie oltre alla nostra Vediamo Innanzitutto la safe è molto importante Safe che comunque dovrebbe chiudersi sempre verso di noi Quindi dovremmo stare abbastanza tranquilli per questo Ma Chissà dove sono gli altri 4 16 secondi per scoprire il nostro destino finale E la mappa in realtà è ancora molto grande Per così pochi giocatori Adesso tutto si deciderà E ci gioca male Ci gioca male Purtroppo Però Vabbè Bisogna muoversi Non Magari non adesso però Tanto la safe È comunque relativamente lenta Quindi Toglie tanto ma è lenta Quindi ce la giochiamo tranquillamente E poi Ce la giochiamo lì Nel bel mezzo Del verde Con i cecchini O il mitraglione Il mitraglione sarebbe una grande arma Da sfruttare Però il cecchino in questo momento Allora Di qua non possono arrivare Quindi per forza di qua Bisogna muoversi Basta basta Non distruggere Non distruggere Non c'è bisogno di materiale In questo momento C'è solo bisogno di fortuna Eccoli là Eccoli là Guardateli come sono a vista Eccoli là Quindi una coppia L'abbiamo trovata Sono in volo Erano sopra là Quella costruzione là Ho messo una Una cosa Ho preso il tempo Attenzione Ho preso il tempo Eccoli là Sono a sinistra Eccolo là Ecco Cinque Quindi c'è un singolo Probabilmente Settiamo bassi Aspetta Non sparare Non sparare Aspetta Aspetta Fagli killare Fra di loro No no Fallo Fagli fare Fagli fare Fagli fare A loro 23 23 gli ho tolto Gli ho tolto 23 a 1 23 di scuso Gli ho tolto Almeno quello Almeno quello Oh E' Occhio Dietro di te A sinistra E a destra Ce ne due E' sopra E' sopra E' sopra Di là L'hai visto Se necessario Non curarmi Se necessario E' sopra Oh my gold Sì le ho leo Ah vabbè Sì un in più me la faccio Ah vabbè un in più me la faccio volentieri Avevo già pensato che la partita fosse finita Mamma mia Cioè guardate qua che cosa abbiamo Quattro trappole Eh lo so Quattro trappole Sai cosa Secondo me Se costruiamo avanti Le posizioni Questi stanno cercando di distruggerci lì E' sopra che L'ho eliminato Ce ne hai uno ancora Vai 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 Sciappa 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 Eccolo là Occhio Eh vabbè Peccato Anche qui Abbiamo scerato la vittoria reale Anche qui secondi Ed è una delusione Perché anche qua Potevamo vincere Ci riproveremo la prossima volta Sperando di beccare Questa volta La prossima volta la medaglia d'ora E non ancora la medaglia d'argento Che fa male Quando è la vittoria in pugno E non riesce a ottenerla Vabbè Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao